ciao a tutti appassionati di anime manga sono alex come sempre mi sono qui su youtube su instagram su twitch e anche il mio potere per restare sempre aggiornati tutti i link come sempre li trovate qui sotto in descrizione oggi andrò a fare la recensione di la maschera di smoth edito da jibo a prezzo 7 euro e 50 questo è il volume 2 è uscito col cofanetto a ovviamente 15 euro disegni di gota nabe che ha rivisitato la storia di low craft per appunto la maschera di smoth una delle poche opere che è riuscito a godersi ancora in vita cioè a editare a pubblicare quando era ancora in vita low craft è un manga senen del terrore horror come sapete low craft tutti i suoi conti in queste storie tratta l'orrore cosmico dal ciclo di cthulhu da mitologia dalla sua mitologia inventata lui davvero dai culti strani che ci sono cultisti e chi più ne ha chi più ne metta e quindi però è una storia un parecchio interessante che ti intriga dall'inizio alla fine disegni molto azzeccati molto adatti siamo nel 1927 state 1927 il protagonista che non c'è mai dato sapere il suo vero nome non c'è una volta fatto la maggiorità 18 anni decide di andare alla ricerca delle sue origini del suo passato ricreare l'arbero genealogico della sua famiglia allorché sente questa cittadina città di smoth questa città sul mare con delle storie da almeno 100 anni davvero travagliate cioè nel senso che tutti i paesi nelle vicinanze dicono di stare lontano da questa città soprattutto i suoi abitanti che puzzano un po' di pesce che hanno una fisionomia molto particolare che col tempo sembra quasi che prendano una malattia una deformazione che non si sa se è proprio una malattia o qualcosa di ereditario hanno gli occhi sporgenti la pelle rugosa i piedi molto ma molto più lunghi davvero sembra quasi una pelle usturata davvero sembra quasi dei pesci i momenti sente parla di questa città che sembra quasi che dalle voci sia un covo di demoni e quindi si incuriosisce soprattutto quando vede dei gioielli provenienti dai smuth in un'altra città e si incuriosisce questi gioielli soprattutto in particolare una corona che sembra dalla forma che chi la indossa abbia una testa molto deformata quasi ovale un po' come un alieno e però appunto è curioso di questo e però appunto va in questa cittadina qua in questa cittadina c'è un ordine l'ordine esoterico di Davon che ha soppiantato la regione cristiana siamo come ho detto in Ismuth e nel Massachusetts quindi siamo in America quindi è ovvio che c'è la regione cristiana però da cent'anni c'è questo culto esoterico che sembra che faccia miracoli sembra che porti i pesci da soli a riva questa cittadina che una volta era una affineria di Oreo e il suo proprietario Obed Mash che ha lasciato degli eredi da cent'anni ormai che è ispirato ha portato questo culto e scopriamo insieme tutta la storia da cent'anni indietro però da un vecchino Zadok Allen che soprattutto quando beve il protagonista riesce a fargli rivelare la verità o meglio la sua storia, il suo racconto che ci sono dei sacrifici umani, dei diavoli che compaiono dallo scoglio del diavolo che è a qualche centinaia di metri dalla costa questi esseri che in realtà sono gli stessi abitanti non solo di Smoot ma di antiche civiltà che dando se stessi in sacrificio creando un patto con delle divinità sottomarine e sottomarine hanno il dono dell'immortalità nonostante si trasformino in mostri e guardando comunque questi esseri Zadok è quasi impazzito è un ricordo di anni e anni addietro e per quello che la cittadina manco è segnata sulle mappe è sparita e il protagonista vuole scoprire questa verità capire se quello che ha detto il vecchio è la verità o se sono solo frutto di fantagi e fandoni certo che tutta la città è impregnata da una puzza di pesce case quasi che sembrano abbandonate nonostante si sentano dei rumori all'interno che sono barricate le persiane chiuse vede gli abitanti che hanno davvero questa malformazione e non riesce a capire da cosa è causata ha questo senso di inquietudine costante dall'inizio e dalla fine e grazie ai disegni Gotanave riesce a darci anche a non lettori questo senso di inquietudine dall'inizio e dalla fine questa paura sottile che non è marcata fin dall'inizio però senti che presenti senti anche il lettore che c'è qualcuno che ti osserva e davvero non divori le pagine per cercare di capire qual è questa verità questo orrore che in qualche modo ha passione ed è bello è un orrore che affascina nonostante ci sono a un certo punto ci sono tavole abbastanza non dico forti ma molto che ti colpiscono molto e quindi vediamo durante dal man inizio e alla fine sviscerare questi misteri queste antiche divinità ancestrali che l'Hawcraft riporterà in quasi tutte le sue opere soprattutto nel ciclo di Cthulhu questa è stata una delle sue migliori opere insieme al ciclo di Cthulhu e i disegni devo dire che rendono ancora di più ti fanno sentire dentro la storia perché spesso Gotanave fa le certe determinate tavole con gli occhi del protagonista come se fossimo noi il protagonista quindi vediamo certe tavole come qua è esattamente quello che vede il protagonista e quindi ti fa immergere molto all'interno di questo manga e ti dà un senso di partecipazione a 180 gradi e davvero l'orrore è palpabile è labile parecchio fin dall'inizio alla fine ma in certi punti è davvero palpabile e senti proprio un po' di angoscia in certi momenti ovviamente non in tutti però è un'escalation e fino al culmine le ultime tavole che ci riveleranno una verità sul protagonista che vi lascerà a bocca aperta sconcertante i mostri sono tra noi possiamo concluderla così e devo dire che ve lo straconsiglio ma tanto ancora forse più del ciclo di Cthulhu perché forse questa è la base che mette per creare poi il ciclo di Cthulhu soprattutto sugli orrori cosmici gli orrori cosmici questi incubi che probabilmente Kentaro Miura trae ispirazione per creare qualcuno della mano di Dio di sicuramente preso ispirazione dagli incubi di Lawcraft io vi ringrazio se il video è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate like noi ci vediamo ai prossimi video